Hello! Qui Rezi e benvenuti ragazzi su Minecraft, siamo nel decimo episodio L'ultima volta c'eravamo fermati con io che costruivo praticamente l'isola dell'isola dei famosi appunto Ora, in questa nuova puntata vorrei fare io praticamente la piazzola quella principale degli Hunger Games Dove 16, 10, quanto sono personaggi, nascono ognuno in una capsula Per poi affrontarsi e destreggiarsi fra di loro E inoltre vorrei fare anche la piazzola centrale dove c'erano tutti lì, dove ci sono tutti i rifornimenti, le armi potenti Ad esempio come decalling, proprio che splone, si mangiate Ok ragazzi, ho fatto un po' un casino, sono un po' uscite dalle pecore, quindi ora bisognerò fare il tutto Grazie, grazie, le piccole no, vero? Cominciamo a sterminare un po' tutti Buongiorno, buongiorno, tutti morti, aiuto, aiuto, ci invadono No, no, via, 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 sembra tipo la Valkyria quella di Crash Royale No, aia, aia, no, no, no Ok, andiamo a casa che non ce la faccio più, voglio dormire Ozono Allora, per fare io la piazzola di Younger Games Mi servirà tanto ferro perché la vorrei fare figa E ora ci inventiamo qualcos'altro Per fare la piazzola di Younger Games Prendiamo il blocco di lapislazzoli Prendiamo pure quello di blocchi di redstone, il carbone Tanto non mi servono Dove, i blocchi di iron Ne abbiamo 15 soli, quindi sono pochissimi Abbiamo qua il granito Prendiamo questi, questi, questi Prendiamo tutti i blocchi possibili Il vetro ci serve Poi prendiamo pure l'altro tipo di legno Prendiamo tutti i materiali possibili Perché poi mi secca di tornare indietro Questi prendiamo pure, per sicurezza, questi pure Allora, se la nostra isola Delle isole famose a destra Noi le facciamo a Younger Games a sinistra Serve tipo un terreno Ah sì, è pieno il giante E vabbè, bellissimo qua Ok, l'ho trovato Ho trovato il terreno dove fare tutto E lo sapete, la cosa bellissima È che non ho la pala Coglione che sono Ok, per fare la piazzola di Younger Games Ci servirà prima fare la pasta Dove ci sono tutti i rifornimenti iniziali Anzi, no, 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 la pasta la facciamo altrove Prima facciamo praticamente il cerchio Dove ci sono tutti gli spawnati Tutte le persone che si sono spawnate Su quella cacchio di isole inventate, immaginarie Ok, ragazzi Il centro è questo Quindi abbiamo 20 blocchi a sinistra E 20 blocchi a destra Più uno zombie che fra poco morirà Perché avete rotto al centro E cosa potremmo fare? Non lo so Cosa possiamo fare noi al centro Ok, ok Ci sono, ragazzi Ci sono, ci sono, ci sono Ci sono, ci sono Prendiamo questo, questo Prendiamo tutto Qua io avrei deciso di fare una cosa Ad esempio Così Mettiamo qua A T Ok, e questa è una La facciamo pure di qua Quindi è così 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 E così Ok Eh no Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Maidei Ho sbagliato Qui io avrei intenzione di fare E mi serve il secchiello di acqua Perché avrei intenzione di riempire Tutto centrale con l'acqua E abbiamo il primo secchiello di acqua Secondo Terzo Tutto è spawnato E io no Metto le tosh Perché non spawno niente C'è uno scheletro Un ragno Un altro ragno lì Uno fa bene Un altro zombie qua Un creeper là Interessante Due ragni Due ragni Due ragni C'è qualcos'altro? Dov'è l'enderman? Eh non lo vedo C'è una pecora pure C'è una pecora C'è per una pecora Buongiorno ragnetto Buongiorno Buongiorno Vaffaccucciolo Vai via Gli undergames sono più umani Buongiorno Bello Leonida di fallito Proprio sai Abbiamo finito? Non lo so Vai 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 L'ultimo pezzo qui Bebe Ecole L'acqua para finalmente E la parte centrale È fatta Ora io Al posto di questa terra Ci vorrei mettere La redstone Sì vorrei mettere la redstone Quindi cominciamo a fare Qua il 3 E ci mettiamo la redstone Già sbagliando Giustamente Uno due tre Ok Prima parte fatta Sette Sì Guarda che figo E' carino Ma siccome c'è carenza di cibo Ragazzi ci facciamo una piantagione qua Così Tanto per Uno due tre Facciamo tutto intorno Qua Ok mettiamo tutti i selini Selini Piantagione Ho fame Giorno finalmente Grazie Continuiamo qui a contornare La nostra zona principale Degli younger games Dell'entrata Degli younger games Ragazzi cosa sento Non ci credo Ti prego Ti prego Ti prego Ne ho bisogno Ti prego Ditemi che c'è la lava Ho trovato la lava Mi serviva ragazzi Che culo Yes Cadetta fatta E ora cominciamo a portare Sù la lava Perché mi serve contornare con la lava Voglio proprio contornare di lava Pareggiamo il terreno Cominciamo a mettere la lava Ragazzi Bam Prima lava messa Ragazzi verrà fighissimo Dai 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 Oh Non lo stavo cadendo Mamma mia Cosa ho rischiato Di perdere tutti i materiali Fra un'ora io arrivo a pregiare tutto Non ho più cibo Ottimo Devo mangiare la merda qua Dalle cose Allora ragazzi Ho finito di fare la lava Dopo tipo 4 giorni Ora Avendo finito la lava Prendiamo il materiale Prendiamo il granito levigato Ce lo mettiamo accanto alla pala Ragazzi il granito non c'è più Mi ha malgrado Era un bel materiale Ma abbiamo deciso Ho deciso di non utilizzarlo In quanto Come ve lo posso dire Ho sbagliato a premere Cazzo E' finito la lava Ma dai Ma che fai Ma oddio Non mi riusci a fare pensare No vabbè Non c'era Non c'era mai stato il granito Facciamo finta che non c'era mai Il granito Il granito Il granito Il mio granito Mi sto mettendo a piagere Cazzo il granito Comunque Allora Così e pam Poi così e pam Poi così e pam Ok mettiamo 3 di qua 3 1 2 3 1 2 3 Ok E la parte What the fuck Ma tu sei proprio l'altro amico di Leonita Stupido proprio No il grano Bastardo Il mio grano Ma ti sei permesso Ma meno male che hai preso quello finito Che bastardo E la questo è il suo intento Distruggermi il grano Ma ora non ci si può fidare più di nessuno Bu Ecco guarda Guarda quella bestia Guarda guarda che schifo Guarda Te la stai andando Te la vai eh Stamattina lei fa proprio schifo al cazzo Che brutto È proprio sceno Ragazzi ho deciso Lo mettiamo Fa schifo Ma siccome il granito si è perso Non so dove è andato Non mi ricordo Dove l'ho messo Bu Mettiamo questo schifo qua Di orite Levigata Sì ma Levighiamolo un po' meglio La prossima volta 1 2 Ma è brutto Meglio non guardarlo Non guardiamo la tua Se no Vomitiamo Olè Posso dirlo che è una merda 2 4 6 8 Ah riusciamo a fare pure questo Facciamo uno qua Uno qua Uno qua Ragazzi verrà fighissimo Tranne questi blocchi di diorite Però fa niente 1 2 3 4 5 6 7 E qua c'è l'8 Olè Era più carino Ora sì sì è più carino E qui intorno io ci vorrei fare I blocchi di carbone Ora senza rompere le balle a quel creeper Non ce ne andiamo Verdi tranquilli E andiamo a ricoprire il tutto Con la pietra di carbone Cominciamo a mettere i blocchi di carbone Tutto qui intorno E tutto qui intorno ragazzi Ci mettiamo i mattoni di roccia Sempre se non mi cadono pure loro nella lava Ci mettiamo qua i pezzetti di redstone Eh ma non ci bastano comunque Questo è praticamente l'inizio Ok ragazzi Praticamente questa è la postazione principale Da dove nasce tutto Negli Hunger Games Questa in futuro L'amprieremo Solo che ho finito tutti i materiali Ne ho usati un casino Tutti preziosi Comunque ragazzi Per oggi il video può finire qua Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate e iscrivetevi al canale Mettete tanti mi piace Ragazzi Se mettete tanti mi piace Nel prossimo episodio sarà XL Quindi lo farò durare molto di più Tutto dipende da voi Comunque ragazzi Che dire Qui per lesiva è tutto Bella